Anche la comunità scientifica si mobilita per la pace. Oggi sit-in a Piazza Duomo organizzato dal Gran Sasso Science Institute, dai laboratori del Gran Sasso e dall'Università dell'Aquila. Un appello raccolto da molti. In piazza c'erano docenti, ricercatori, studenti e personale amministrativo con i vertici dell'Ateneo, del Gran Sasso Science Institute e dei laboratori. Un presidio di condanna alle mosse di Putin, ma anche di solidarietà verso la popolazione ucraina. Tra gli studenti c'è anche Maxima Andreschi, studente ucraino, da settembre scritto all'Università dell'Aquila. Dice che la situazione è molto difficile, che ovviamente il fatto di essere lontano dai suoi amici e parenti è una cosa molto pesante e che quindi sta però cercando di fare il suo meglio stando qui all'Aquila. Intanto l'associazione di ex alunni dell'Ateneo ha promosso una raccolta fondi e con 20.000 euro del loro fondocassa hanno già acquistato dei medicinali, bandiere e volti dipinti con i colori dell'Ucraina e della pace per ribadire il no alla guerra. Siamo qui tutti insieme, speriamo numerosi. Il mondo accademico e della ricerca aquilano vuol far sentire la propria voce importante, determinata, convinta contro la guerra, perché la scienza non può mai essere a favore della guerra. Quindi dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo in qualche modo sollecitare le nostre istituzioni politiche, ma soprattutto quelle sovranazionali, ad essere aggressivi, motivati nell'indurre la cessazione delle ostilità. Oggi siamo qui per la pace e c'è l'Università dell'Aquila, il Gran Sasso Scientistitut e anche i laboratori nazionali del Gran Sasso. Siamo qui con tutti i nostri studenti e Carlo è rappresentante degli studenti e può sicuramente testimoniare il clima che noi viviamo con gli studenti, con gli studenti che provengono da tutto il mondo. Quello che noi qui cerchiamo di fare tutti i giorni è cercare di stare in comunità, di stare uniti, di far sentire a casa persone che sono dalla loro casa molto lontano e in qualità di ricercatori e giovani scienziati, il nostro rettore l'altro giorno ha detto una frase che mi ha colpito molto, che noi in qualità di uomini di scienza, uomini e donne di scienza, siamo anche costruttori di ponti di pace e in qualità di questo ruolo che dobbiamo sentire, dobbiamo cercare di affrontare la vita di tutti i giorni che certo può essere spaventosa in termini di possibili conseguenze ma cerchiamo di andare avanti lo stesso col sorriso e per la pace.